Lo sport aveva solo 4 anni quando è morta per un tumore, la piccola Giulia Cereseto, questa mattina è secondo memoria di un suo ricordo, con una staffetta delle solidarietà a Villa Serra di Santolcese, ad aprire la manifestazione, la corsa dei bambini sotto i 14 anni, un chilometro all'interno del parco. L'intero ricavato sarà devoluto all'associazione Abeo che si occupa di sostegno a pazienti e favigli dei malati o un colpo di città.